Auguri di un buon Natale e di un sereno Natale a tutte le cittadine, a tutti i cittadini di Napoli, a tutti i turisti che hanno deciso e li ringrazio di passare il Natale, le feste, nella nostra straordinaria città. È stato un anno duro, soprattutto dal punto di vista nazionale, di crisi economica, un crollo morale sempre più devastante, ma per la nostra città anche un anno importante, un anno di cambiamenti, la mia elezione, il grande successo del referendum dell'acqua, grande riscossa della città, la fierezza di sentirsi e di essere napoletani. Ho avverto questa grande energia positiva, questa voglia di cambiamento, questa voglia di riscatto. Tutti insieme, con uno spirito di squadra, possiamo far sì che Napoli torni a splendere nel mondo per le sue ricchezze. Dobbiamo meglio comunicare le cose belle che abbiamo, risolvere i problemi, ci vogliono mettere nell'angolo, tagliano i fondi, c'è chi non vuole il cambiamento, ma noi vinceremo, vinceremo perché abbiamo determinazione, coraggio, cuore e passione. Questo Natale vi ringrazio per quello che avete fatto per Napoli e soprattutto quello che faremo in queste ore che ci separano al Santo Natale è di essere più vicino alle persone che hanno di meno, alle persone che soffrono e alle persone che sono in difficoltà. Questa è una città della solidarietà, dell'uguaglianza e della capacità di stare vicino soprattutto ai più deboli. Buon Natale.